E' stato Nelè Mangia Cavallo a nome dei sindaci del comprensori ad elaborare la proposta per la riapertura del pronto soccorso di Ribera, quella sottoposta nelle scorse settimane all'attenzione della Commissione Parlamentare Sanità e accolta dall'assessora Giovanna Volo. Non chiedo né meriti né rivendicazioni, ho fatto solo riferimento a quella legge che più volte è stata citata opportunamente, che è il decreto ministeriale 70 dell'aprile del 2015, che non va letto soltanto nella prima parte, attenzione, perché là c'era scritto quello che si doveva fare e oggi si è fatto. E' un risultato straordinario, un risultato importante, va dato atto a quanti, tanti, si sono adoperati nell'arco degli anni e principalmente all'assessore Volo, che è forte di quella determinazione, di quella competenza che ha contraddistinto il suo impegno professionale prima che politico, grazie a questa forte determinazione ha assunto la responsabilità di autorizzare l'apertura del pronto soccorso con un atto amministrativo. Ribadisce però l'ex sindaco ed ex sottosegretario che il decreto ministeriale 70, che ha permesso la deroga per il pronto soccorso di Ribera, indica in maniera chiarissima le caratteristiche di un ospedale di zona disagiata, per il quale, come è noto, si sta abbattendo la comunità, caratteristiche che ridimensionerebbero nettamente l'offerta sanitaria, visto che un ospedale di zona disagiata prevede solo 20 posti letto e medicina che siano disponibili anche per i pazienti afferenti ad una chirurgia generale che comunque dovrebbe essere ridotta, a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche non di emergenza, regime di day o week surgery e con un numero di casi trattabili non troppo alto, a garanzia della sicurezza delle prestazioni. Ma non è tutto, lo stesso pronto soccorso dovrebbe essere integrato con quello dello SPOC di riferimento, quindi con sciacca e con personale da utilizzare a rotazione. Ecco perché Mangiacavallo continua a dire che questa battaglia determinerebbe un passo indietro. Io mi auguro che non venga mai riconosciuto l'ospedale di Ribera come ospedale di zona disagiata, perché oggi l'ospedale di Ribera ha una dotazione di unità operative di tutto il rispetto, che ha un significato all'interno della organizzazione degli ospedali civili riuniti, sciacca e Ribera, che è l'unica soluzione per assicurare assistenza ospedaliera qualificata ad una vasta zona, anche perché questa struttura messa insieme dall'ospedale di Ribera, dall'ospedale di sciacca, dà risposta non solo alle acuzie, ma anche principalmente alle cronicità e dalla riconversione da ospedale Covid all'ospedale generalista, l'ospedale di Ribera si potrà arricchire di ulteriori strutture qualificate e al servizio di una vastissima zona. Ma qualcuno diceva che la mia proposta avrebbe assicurato un pronto soccorso illegale. Il fatto che l'assessore abbia firmato questa autorizzazione mi fa pensare che non sia né un abuso né un atto illegittimo. Sarebbe illegittimo, se viene riconosciuto come ospedale di zona disagiata, mantenere quelle unità operative che attualmente ci sono, non perché è una mia interpretazione, ma perché è scritto nella legge. Le forze civiche dei comuni di sciacca e Ribera devono mettersi assieme e condividere lo stesso percorso. Questo l'auspice di Nenne Mangiacavallo. Sia i movimenti che si sono interessati a Ribera, sia i movimenti che opportunamente il comitato esistente fatto di persone autorevolissime e competenti dovranno muoversi all'unisono. Bisogna fare squadra, perché è interesse di tutti riportare al suo antico splendore l'ospedale di sciacca, così non può continuare. E a me non interessa per orare la causa di questo ospedale o dell'altro ospedale, perché le due cose sono vincolate, devono camminare insieme. Ho sostenuto sempre che sono complementari e così dovranno essere, ma non sulla carta. Dovranno essere erogate prestazioni di qualità, dovranno essere coperti i posti vacanti, ci dovrà essere un apporto tecnologico il più moderno possibile. Bisognerà investire non solo sull'ospedale di Ribera, ma anche e principalmente sull'ospedale di sciacca, che è un dea di primo livello e tale deve continuare ad essere. Attenzione. Non lo faccio per difendere una posizione istituzionale o quello che c'è scritto in un decreto assessoriale. Lo faccio convintamente perché se si deve assicurare un'assistenza di qualità, bisogna prendere in considerazione solo e esclusivamente questa azione comune. Sicuramente il comitato di sciacca non ha bisogno del mio modesto aiuto, ma nel caso in cui ci fosse bisogno anche di portare una bandiera, io sono e sarò a fianco di coloro i quali sostengono accanitamente la piena valorizzazione di questo nosocomio.